Stramaccioni La risposta è arrivata pronta e durissima la risposta di Mastella, sindaco della città campana. I nostri giocatori sono sfottuti da amici e colleghi. C'è un clima di sfiducia generale nell'ambiente. E Stramaccioni ha fatto una comparazione cretina e inaccettabile. Lui dice non siamo mica il Benevento e noi gli rispondiamo che non siamo come Stramaccioni. Spero che ci chieda scusa. Il chiarimento Speranza è subito accolte dall'ex tecnico dell'Inter, che si è immediatamente scusato. Ho nominato il Benevento solo in relazione al fatto che non avesse mai fatto la Serie A. Mi scuso verso chi si è sentito offeso, ma non era mia intenzione farlo. Poi, anche un riferimento familiare. Mia nonna è nata a Cusano Mutri, in provincia di Benevento. Ho tanti parenti lì ed è lungi da me accusare questa città. Era solo in riferimento al fatto che fosse un club al primo anno di Serie A. .